Un tentativo di mettere d'accordo le forze popolari e le forze centriste con gli obiettivi chiari, le amministrative 2016, Salerno e non solo. Salerno diventa riferimento politico, ma iniziative come questa stasera devono essere un laboratorio, un riferimento non solo come area moderata, e quindi quest'area moderata si riorganza e parte dal basso, e quindi vorremmo caratterizzare la nostra lista politica su Salerno intorno a alcune priorità programmatiche. Spero che occasioni e iniziative come queste di stasera possano arricchire il dibattito politico anche all'interno della città di Salerno, ma non solo, anche nei 39 comuni dove andranno al voto del resto della provincia nel 2016. In coalizione col PD vuol dire che prima o poi alzerete la voce e chiederete un candidato vostro? In quale comune ad esempio? Ma sicuramente il PD ha la forza e l'autorevolezza nella città di Salerno di guidare la coalizione, ma qualora il PD non sia oppure non possa avere una proposta forte e programmatica, perché no? Quest'area moderata possa indicare dei candidati sindaci e mi riferisco a dei comuni importanti dove si voterà Battipaglia, dove fosse possibile, e adesso da qualche giorno si inizia a parlare di elezioni comunali anche a Scafatti. Sono i tre comuni importanti sopra i 15.000 abitanti dove si voterà il maggio del 2016.